ben tornati a buone cose seconda parte di questa nostra puntata che stiamo dedicando al consorzio della bonifica di burana e in particolare al sistema dell'irrigazione ci troviamo a due passi da mirandola qui a nostro fianco c'è l'impianto concordia sud di cui abbiamo parlato prima siamo in provincia di modena in una zona che è compresa in alto tra il fiume po e di fianco tra il fiume secchia e il fiume panaro ed è molto importante come sottolineavamo già prima l'irrigazione in questa zona che ha forte vocazione agricola ci sono tante produzioni l'acqua allora praticamente parte dal po e arriva quasi alle porte della città di modena più o meno nella zona di sorbara per sollevamento da lì poi per caduta torna a scendere verso il po diciamo e viene utilizzata dagli agricoltori per irrigare i campi e le coltivazioni allora insieme a cristian borsari che segue la manutenzione direttamente sono responsabile del reparto di mirandola della parte tecnica quindi canali e tutti gli aspetti di esercizio e manutenzione per il corretto svolgimento dell'irrigazione ma anche dello scolo ok ma allora in sostanza di che interventi stiamo parlando però perché voglio dire un canale come quello che canale è questo è il diversivo di burano il diversivo di burano ok un canale come questo che ha le sponde in cemento un po d'erba di fianco tra l'altro sfalciato da poco faccio il giardiniere sono a posto che manutenzione mi serve in un canale si c'è una manutenzione ordinaria che appunto è lo sfalcio dell'erba poi uno degli altri interventi principali è l'espurgo ossia che questo viene fatto nella stagione invernale quando i canali vengono svasati ossia viene scavato il fondo del canale per ritrovare la quota originale andiamo dai canali di questo tipo a quelli più 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 piccoli e questo è il discorso ordinario poi c'è un discorso straordinario che questo canale ad esempio come molti hanno strade vicine e a volte il traffico che negli anni si è aumentato e anche i mezzi sono più pesanti ma poi anche a volte eventi di piena cioè sono tanti fattori possono portare a cedimenti delle sponde non solo poi lato stradale anche in campagna con possono portare fenomeni di erosione e cedimento quindi in questi casi sono interventi che vanno progettati ponderati e una delle manutenzioni anche che si fa è sui manufatti che sono presenti sui nostri canali sono sostegni comparatoie oppure anche panconature in legno che servono per fare le quote il carico d'acqua per avere la portata per prelevare appunto la risorsa idrica bene tanta acqua che serve per l'irrigazione allora abbiamo capito che ne arriva attraverso l'impianto sabbioncello che preleva acqua dal po ma non solo dal sabbioncello anche da uno degli impianti che sono un po il simbolo del consorzio della bonifica burana l'impianto pilastresi giusto l'impianto pilastresi è un impianto che è stato costruito negli anni 30 è entrato poi in funzione solamente al termine della seconda guerra mondiale perché ha subito dei bombardamenti ha avuto dei problemi di filizzazione che sono manifestati durante la realizzazione dell'impianto stesso ed è un impianto che ha la duplice funzione sia di scolmare la metà delle piene che si creano in un bacino esteso 54.700 ettari e racchiuso tra il secchia il panaro e il po ok che si trova a nord di mirandola di san felice di finale miglia e ha anche la funzione di derivare da po fino a 47 metri cubi al secondo che vengono immessi nel canale pilastresi e poi nel collettore burana sottopassa il panaro e quindi arriva ad irrigare anche 150 mila ettari della provincia e della pianura ferrarese della pianura ferrarese per quanto riguarda la irrigazione si sono verificate delle magre più consistenti di quelle che erano state utilizzate quando è stato progettato l'impianto cioè il po a meno acqua il po a meno acqua a progetto si considerava come massima magra del po lì in corrispondenza dell'impianto pilastresi i 4 metri sul livello del mare nel 2003 il livello minimo è stato di 2 metri 70 ok quindi nel 2003 l'impianto pilastresi è rimasto fermo per diverse settimane per questo sono stati costruiti due impianti l'impianto sussidiario 1 l'impianto sussidiario 2 che vanno in aiuto all'impianto pilastresi perché possono pescare il primo fino a due metri e mezzo di livello di po certo e secondo fino a un metro e mezzo quindi danno una mano in questi casi a avere comunque l'acqua per l'irrigazione esatto esatto l'impianto pilastresi in un anno mediamente arriva a derivare fino a 200 milioni di metri cubi di acqua cioè un metro cubo d'acqua è un quadrato che c'è giusto tra me e lei che siamo forse anche un po meno perché siamo a distanza di sicurezza quindi insomma sono mille litri di acqua un metro cubo equivale a mille litri quindi i 200 milioni di metri cubi di acqua sono 200 miliardi di litri di acqua non abbiamo detto una cosa importante lei perché sa tutte queste cose cosa fa lei di vestire no io sono il capo ufficio dell'ufficio progettazione quindi mi occupo della progettazione della direzione dei lavori di tutte quelle opere che vengono appaltate all'impresa o per la manutenzione straordinaria delle opere oppure anche per la realizzazione di opere nuove quindi per questi in questo caso per i due impianti di sollevamento i due sussidiari e anche altre cose ma è vero che pilastresi deve crescere ancora un po' è vero perché c'è in progetto anche la realizzazione di un altro impianto l'impianto cavaliera quello sarà però un impianto con solo la funzione di scolo ok fino a 50 metri cubi al secondo quindi un impianto che sarà un po' diverso dall'impianto pilastresi perché l'impianto pilastresi è stato realizzato facendo proprio un taglio dell'agine del poe mentre il nuovo impianto sarà un impianto che viene fatto a campagna e sarà dotato di tubazioni che scavalcano l'agine questo per evitare di andare ad agire sull'agine che può essere sempre un punto critico durante le piene di poe come avete visto ci siamo proprio spostati prima eravamo sulle sponde di un canale adesso siamo praticamente in mezzo a un bacino a un lago a una cassa d'espansione dove ci troviamo di preciso ce lo spiega andrea simani benvenuto a buone cose grazie buongiorno io sono il responsabile del della parte di comprensorio del consorzio che ha sede periferica san giovanni in persiceto ok ed è quella parte di comprensorio era chiusa da tra il fiume panaro a ovest e il torrente samoggia a est quindi noi ci siamo spostati una parte nel modenese che differenza c'è tra questi due territori allora innanzitutto ci sono sostanziali differenze parto da quanto diceva lei all'inizio qui siamo di preciso all'oasi di manzolino che diviene oasi in quanto questa è una cassa di espansione con doppia valenza a una valenza di salvaguardia del territorio cioè è un volume d'acqua che può essere sfruttato per laminare eventuali onde di piena a seguito di eventi meteorici eccezionali ok e questo è per una parte dell'anno per questi tipi di eventi ma funge anche da riserva idrica nel periodo riguo qui per ricondurmi al suo discorso siamo in una parte di territorio ben diversa rispetto al sinistra del panaro quella parte era chiusa fra secchia panaro per capirci perché è diversa la fonte di attingimento parliamo di irrigazione in questo momento cioè la la prendevamo dal po qui da dove da cosa la prendiamo qui la prendiamo da torrente sammoggia fiume panaro e anche dal po poi al limite vi spiegherò con quale meccanismo perché il po non è certo qui vicino insomma infatti abbastanza lontano questo territorio che ha comunque una forte vocazione nell'agricoltura ha l'enorme difficoltà di avere rispetto alle attese al fabbisogno una bassissima quantità d'acqua veicolabile faccio un esempio il torrente samoggia già da qualche giorno è secco completamente quindi non è possibile attingere dal torrente samoggia il fiume panaro no ma arrivano ormai sempre di più dei momenti dell'anno in cui scende a un livello tale per cui per tutelare quello che è il dmv il deflusso minimo vitale a volte di fatto è impedito l'attingimento io non posso prendere tutta l'acqua che c'è nel fiume perché sennò ucciderei il fiume tutto quello che c'è a valle da dove esiste questo limite per tutelare l'ecosistema del fiume infatti in questi territori è preponderante questa modalità irrigazione a turnazione si cerca di andare incontro alle esigenze di tutti ma è chiaro che se c'è per un'azienda agricola può non esserci per quella immediatamente dopo la quale deve aspettare il suo turno questo crea questo chiaramente un disagio ma sarebbe l'unica maniera di poter alla fine soddisfare il mondo agricolo nella maniera migliore possibile perché tutta per tutti non ce n'è però qui viene in nostro stavo per dire vostro ma in realtà è il nostro soccorso perché insomma questo è un bene di tutti l'acqua viene il nostro soccorso il CER giusto che è il canale emiliano romagnolo abbiamo due soccorsi in realtà uno è questo dove siamo perché quando ancora o il torrente samoggio il fiume panaro sono in grado di darcene noi la riempiamo preventivamente e quindi abbiamo stoccato un volume che poi nei momenti di siccità siamo in grado di veicolare lungo tutta la rete di canali quindi questa è una riserva per il momento i rubinetti che si aprono i rubinetti e questa è una riserva che torna fortemente di comodo nei momenti di massima necessità e questo è un volume però finito a un certo punto potrebbe finire diverso è l'attingimento tramite CER da fiume Po ok questo ingresso di acqua di CER sta per il canale emiliano romagnolo l'acqua arriva fino alla paratoia del guazzaloca in comune di crevalcore ok questa paratoia è uno sbarramento idraulico sul canale collettore delle acque alte e così si crea a partire da valle un rigurgito di acqua di livelli idrici nei nostri canali fino a monte in modo da poterla attingere per fare irrigazione però come spiegavo prima ci sono territori ancora più alti questa non basta la paratoia del guazzaloca servono successivi sollevamenti certo uno su tutti al nostro impianto del torrazzuolo noi solleviamo dell'acqua provenienza CER ormai chilometri chilometri lontana dal fiume Po per immetterla in territori che finché questo non poteva succedere erano serviti unicamente da quella poca risorsa che poteva dare il panaro un esempio su tutti è il canal torbido che lambisce nel suo svolgimento questo impianto torrazzuolo quindi il canal torbido nasce a Savignano sul panaro dove noi abbiamo una presa a scopi irrigui sul fiume panaro teniamo presente che il canal torbido che ha uno svolgimento da sud verso nord di quasi 35 chilometri costituisce un'asta importantissima in questa parte del comprensorio dal punto di vista irriguo e quindi si sono dovuti trovare degli stratagemmi degli spedienti delle modalità per immettergli dell'acqua nonostante il panaro possa non avere più risorse uno di questi è quella di prendere l'acqua che a sua volta viene da Po con questi successivi sollevamenti e attraverso l'impianto del torrazzuolo immetterla nel canal torbido quindi ridare l'infa a un vettore idrico che di fatto altrimenti potrebbe essere prosciugato anche nei mesi di maggior fabbisogno allora ne parleremo ancora tra poco io intanto ringrazio andrea simani per averci spiegato come funziona l'irrigazione in quest'altra parte di territorio in cui opera il consorzio della bonifica burana piccola pausa state con noi perché torniamo tra poco e approfondiremo anche i temi ambientali Grazie a tutti! Grazie a tutti!